Mi son comprato un personal computer Ma il cuore soffre un poco di aritmia Non so come curare i reumatismi Nelle famiglie e personalità sempre in conflitto E a volte anche una finta gentilezza è per litigare Quando è notte nelle stanze d'albergo Rumori diretto, sesso meccanico Questa ginnastica chiamata amore Musica Innumerevoli stati d'assedio Propongono ricette per la vita Ma ho già l'astrologia babilonese Nel medioevo rinascimentale C'è chi cerca una liberazione E c'è chi trova un'altra particella Quando è notte nelle stanze d'alberro Rumori di letto, un sesso meccanico E il tuo telefono è sempre occupato Il sollecito è stato inoltrato Sulla linea dell'utente desiderato Il sollecito è stato inoltrato Sulla linea dell'utente desiderato Uno, due, tre, quattro Sulla linea dell'utente desiderato Sulla linea dell'utente desiderato Sulla linea dell'utente desiderato